No, ma veramente una campagna diversa, soprattutto basata su pochi ragionamenti e tanti slogan. Questo francamente, sia a destra che a sinistra, e questo francamente mi delugno un po' non c'è più. C'è più tempo per il dibattito, per capire le ragioni di questa crisi, per lanciare proporze complete. Questa volta non si è candidato, ma partecipa attivamente alla campagna elettorale che vede la lista di noi moderati correre all'interno della coalizione di centrodestra, con la candidata Giulia Manzan. Renzo Tondo, già parlamentare e presidente della regione, spiega che cosa non gli è piaciuto di questa campagna e di cosa, in base alla sua esperienza, ci sarebbe bisogno. Penso e vi auguro che è per questo che ho accettato di darvi una mano alla lista di noi moderati perché c'è bisogno di professionalità, competenza, valori, capacità di dire le dossier, studiare pratico, vedere le scelte da fare senza lasciarci correre dalle parole, frasi fatti. E sulle spinte anti-europeiste che caratterizzano molti movimenti politici, Tondo fa una riflessione. Secondo me siamo ancora una grande potenza perché abbiamo un sistema manifatturiero molto alto. La crisi c'è dappertutto. Andate a vedere un po' com'è la situazione in Germania. Tanto può vedere, prendete l'auto, attraversate l'Austria che c'è da poco, andate a vedere pochi consumi, negozi chiusi, cioè chi contaccia un po' dappertutto. Anche se hanno stipendi più alti, ma la qualità della vita è minore. Noi abbiamo grandi risparmi, lo diceva il signore, i depositi bancari, questo è vero, ma si evaporerebbe un attimo se i mercati finanziari decidessero di fare. Io credo che questa non è l'Europa che vogliamo, fuori da questa Europa è ancora peggio.